Assessore, parte il 15 di febbraio una serie di iniziative sotto il nome di Raffaello. Sì, continuiamo con il ciclo di divulgativo e di approfondimento che anche negli scorsi anni abbiamo portato avanti insieme a Sergio Neri e ci aspettano tre occasioni, tutte e tre a ingresso gratuito in Sala del Consiglio dove con l'occasione del cinquecentenario dalla morte di Raffaello togliamo l'occasione per riapprofondire e conoscere quest'artista che tutti noi ci viene in mente le sue opere più rappresentative e togliamo anche l'occasione per ricordare il legame di Raffaello con la Toscana ma più che altro con Firenze e quindi da lì continuare sul ragionamento del nostro territorio nei confronti di Firenze di cui si pone in tutto questo momento storico-artistico in questo caso di Raffaello.